Abadir è un personaggio che solitamente viene giudicato abbastanza male. Io stesso lo considero probabilmente il generale degli abissi più debole o comunque tra i più deboli. E il motivo è presto detto. Durante il suo combattimento con Crystal nella serie classica, Abadir si ritrova in vantaggio praticamente soltanto finché Crystal gli permette di essere in vantaggio. Quando Crystal è sbavordito da trovarsi di fronte il suo ex compagno di addestramento, poi è preda di sensi di colpa, gli permette praticamente di colpirlo ripetutamente, di ferirlo ad un occhio e lui sta lì a ricevere e a subire questi colpi. Ma nel momento in cui Crystal decide finalmente di reagire dopo aver visto l'eroismo di Kiki, il combattimento diventa completamente a senso unico. Da quel momento in poi Crystal, tra l'altro ferito di recente contro Lemuri, ribatta totalmente la battaglia e trionfa in maniera totale contro Abadir. E per questo, guardando Abadir della serie classica, non si ha poi di lui una grande considerazione. Stavolta però offriamo una prospettiva diversa, andiamo a vedere Abadir in un'ottica diversa, perché noi conosciamo Abadir in un momento in cui i protagonisti ormai dalle 12 case in avanti stanno combattendo contro nemici, livello dei Cavalieri d'Oro. Ma se andiamo a vedere la storia del personaggio, Abadir finisce nel Regno Sottomarino dopo aver salvato Crystal. E quel salvataggio avviene circa un anno prima della fine dell'addestramento di Crystal, quindi un anno prima dell'inizio del grosso della serie classica. E questo vuol dire che, se non ci sono elementi esterni, ed è un grosso sé, perché poi lo vedremo tra poco, ma se non ci sono elementi esterni, Abadir, che stava completando l'addestramento per diventare Cavaliere di Bronzo, aveva già raggiunto un cosmo tutto sommato paragonabile a quello di un Cavaliere d'Oro. Voi immaginate se Crystal, finito l'addestramento, si fosse trovato immediatamente a dover combattere contro qualcuno che aveva affrontato i Cavaliere d'Oro. Ovviamente quel Crystal, il Crystal dell'inizio della saga, non avrebbe avuto nessuna speranza. Ecco, se noi prendiamo Abadir, quello era Abadir che aveva ricevuto soltanto un tot di anni di addestramento dal maestro degli acci o da camio, a seconda delle versioni, e con il cosmo sviluppatosi in quegli anni di addestramento, ha già un livello tale da poter poi fronteggiare, nella sua prima vera battaglia, per quello che ne sappiamo, un Crystal paragonabile a un Gold Saint. Quindi questo vorrebbe dire che Abadir non solo non è poi scarso, ma è addirittura un allievo prodigio, è qualcuno che aveva già in fase di addestramento un cosmo paragonabile a quello dei Gold Saint. Quindi questo andrebbe totalmente a capovolgere la nostra idea del personaggio. Ed è qualcosa che ho cominciato a pensare tempo fa, dopo un video sugli allievi, e si è rafforzato con alcune pubblicazioni che ci sono state negli ultimi tempi. Prima il primo capitolo di Destiny, uno dei vari capitoli speciali di Kurumada sul passato, e poi di recente il decimo capitolo di Rise of Poseidon. Durante Destiny noi vediamo Abadir che, anche se preso di sorpresa, con la sua aurora boreale riesce in qualche modo a tenere testa l'esplosione galattica di Kanon. Kanon, attenzione, ammette di non aver lanciato l'esplosione galattica alla massima potenza, però è anche vero che è un colpo sferrato all'improvviso da un Abadir che non era neanche pronto ad essere attaccato, e che comunque si trova di fronte un guerriero sicuramente molto potente. Tutto si può dire di Kanon, tranne che sia scarsissimo. Eppure Abadir gli tiene testa. Quindi questo Abadir, che non ha mai combattuto una vera battaglia in vita sua, riesce già in qualche modo a fronteggiare il colpo segreto di Kanon, che appunto è Kanon. Poi, durante gli eventi di Rise of Poseidon, vediamo questo Abadir che affronta questa illusione di Kanon, affermando di possedere, lasciando intendere, di possedere lo zero assoluto sin dai tempi del combattimento con Crystal nella serie classica, e infatti con la sua aurora boreale riesce ad avere la meglio sull'aurora execution di Kanon e a sconfiggere questa ombra. E anche se questo non è il vero camion, però viene lasciato intendere che la sua forza sia paragonabile, sia simile a quella del vero Aquarius, visto che si parla anche appunto di zero assoluto, di armature congelate e così via. Quindi sarebbe un altro caso di allievo che ha superato il maestro. Ma la cosa sensazionale è che non ha superato il maestro a scalini, non ha superato il maestro dopo una serie di combattimenti che lo hanno reso progressivamente più forte. Ha superato il maestro soltanto completando il suo semplice addestramento da cavaliere di bronzo. Quindi, come dicevo prima, tutto ciò farebbe di abadire un guerriero prodigio, un ragazzo che, allo stesso livello in cui i protagonisti erano all'inizio della serie, ha già un cosmo da cavaliere d'oro, pur non avendo nessuna esperienza in battaglia, pur essendosi addestrato soltanto per cinque anni, probabilmente senza neanche portare a compimento il suo addestramento. E un indizio a riguardo c'è nella serie classica. Infatti, quando Abadir si infuria con Crystal per il suo atteggiamento troppo disfattista, per il voler diventare cavaliere solo per rivedere sua mamma, a un certo punto, nella sua rabbia, sferra un pugno e con quel pugno sfonda la parete del ghiaccio eterno. E la parete del ghiaccio eterno è quella montagna di ghiaccio tecnicamente indistruttibile che al suo interno alberga anche l'armatura del cigno. E quella montagna che poi Crystal distrugge nel terzo episodio, quando Jacob gli dice mai nessuno è riuscito a sfondare questa montagna, questo ghiaccio esiste da sempre, un ghiaccio eterno, poi Crystal la sfonda e ottiene l'armatura. È proprio sfondare la montagna del ghiaccio eterno, è la prova finale per ottenere l'armatura del cigno. Quindi, in quel momento di rabbia, Abadir mostra un po' della sua vera forza e mostra di essere già abbondantemente in grado di sfondare la montagna del ghiaccio eterno e di ricevere l'armatura del cigno. Una postivola riguardo è che Abadir aveva iniziato l'addestramento un po' prima di Crystal. Quando Crystal arriva in Siberia viene detto che Abadir era già lì, quindi è possibile che abbia un po' di vantaggio rispetto al cigno. Crystal ammette che è molto più forte di lui in quel momento, in quel flashback, ma poi non sappiamo esattamente quanto più forte. Dovremmo in realtà chiederci a questo punto perché Abadir non abbia già ottenuto l'armatura del cigno. Visto che era lì da più tempo, aveva sfondato o era in grado di sfondare la montagna del ghiaccio eterno, per quale motivo Camus o il maestro dei ghiacci hanno atteso, hanno aspettato che anche Crystal arrivasse ad un livello tale da poter affrontare la prova ultima? Abadir c'era arrivato per primo, l'armatura del cigno sarebbe dovuta essere sua di diritto. Ma la spiegazione in questo caso è doppia. All'interno della storia è che evidentemente Abadir non era predestinato all'armatura del cigno, anche se poi gliel'abbiamo visto indossare sia in The Rise of Poseidon, sia sotto forma di spettro in Episodio G Assassin. La spiegazione esterna alla trama è che Abadir non era ancora stato concepito in quel momento quando Kurumada scriveva dell'addestramento di Crystal e all'inizio Crystal era tra virgolette figlio unico, era l'unico allievo di Camus o del maestro dei ghiacci. Poi Abadir è una specie di retcon che è stato aggiunto in un secondo momento. Un'altra ipotesi che non può essere ignorata però è quella che è il cosmo di Abadir, che gli permette appunto di tenere testa a Crystal con lo zero assoluto, a Canon e così via, sia potenziato dall'armatura di Sky e di Horkraken. E questa è una possibilità. Noi sappiamo che i generali non ricevono sempre un vero addestramento. Questo è qualcosa che sta venendo confermato ancora di più in The Rise of Poseidon. Spesso i generali sono persone normali che poi ricevono la chiamata di Nettuno. Quindi il ruolo poteri, il ruolo cosmo dovrebbe dipendere totalmente o in grossissima parte dall'armatura di Sky ed è possibile che Abadir, se non avesse indossato l'armatura di Sky avrebbe avuto il cosmo di un semplice cavaliere di bronzo o comunque di un semplice cavaliere di bronzo molto forte sopra la media, ma non un cosmo tare da poter fronteggiare un cavaliere d'oro o chi per lui. E questa è una possibilità sicuramente logica e sensata, soprattutto alla luce degli altri flashback dei generali degli abissi in The Rise. D'altra parte va detto che durante il suo combattimento con il finto Kamio Abadir non indossa la sua armatura di Sky, indossa un'armatura di bronzo eppure il suo cosmo non sembra essere stato condizionato. Così come sembrerebbe forzato dire che il cosmo di Kanon sia alzato o abbassato dall'armatura di Sky Kanon sembra avere una forza molto simile indipendentemente dall'armatura che indossa o che non indossa ha un netto ovviamente delle motivazioni che in Saint Seiya sono sempre uno dei fattori più importanti. Però sicuramente dobbiamo prendere in considerazione questa possibilità che il cosmo di Abadir sia stato potenziato dall'armatura di Sky A riguardo l'intervista a Kurumada dice che l'armatura di Sky vanno alla ricerca di persone che hanno già un cosmo adeguato, quindi lascia intendere che il cosmo venga sviluppato prima e che l'armatura dopo trovi qualcuno adatto a combattere come generale però questa informazione di Kurumada in intervista va contro quanto visto in The Rise e quindi tra le due bisogna prendere in considerazione The Rise che è comunque un'opera ufficiale mentre le interviste indicano soltanto le idee dell'autore in quel momento ma possono essere contraddette, possono cambiare. Quindi che cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che Abadir, sì, è un allievo modello, è un allievo sopra la media e qualcuno che già prima di completare l'addestramento era in grado di ottenere, di superare la prova finale per l'armatura di Bronzo e l'armatura del Cigno gli sarebbe aspettata di diritto però per quanto riguarda il suo cosmo dobbiamo anche ipotizzare che sia stato potenziato dall'armatura di Sky e che sia per questo che riesce a tenere testa a Cristal nel regno sottomarino quindi non soltanto per merito suo. A tempo stesso però è molto probabile che ormai abbia fatto proprio quel rivelo quindi se l'armatura di Sky gli ha dato una spinta iniziale è anche altrettanto plausibile che ormai il cosmo di Abadir si sia assestato su quel rivelo lì e possa soltanto crescere e potenziarsi ma ecco sicuramente anche senza armatura non ritorna a rivelo apprendista di Bronzo. E' quindi un personaggio che va rivalutato in un certo senso che merita maggior considerazione è che considerando quanto ha poca esperienza di battaglia quante poche vere battaglie ha combattuto se la cava meglio di quanto in origine non gli sia dato credito. Voi cosa ne pensate? Secondo voi come mai Abadir è così forte? Era già rivelo cavaliere d'oro completato l'addestramento oppure ci sono fattori esterni? Scrivetelo come sempre nei commenti qua sotto noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!